Questa mattina, ora 11.30, Palazzo Trissino, Sala Stucchi. Ciao Vicenza, abbracciamo l'Italia! Un'entrata in scena originale, quella di Loretta Pavan. L'ex imprenditrice Vicentina è diventata ciclista per passione, dopo che nel 2006 le era stato diagnosticato un tumore al seno. In sella alla sua bici nell'estate della pandemia, Loretta ha attraversato l'Italia per sostenere i malati oncologici e portare loro un messaggio di speranza. Questa raccolta fondi, abbinata a questo progetto Abbracciamo l'Italia, supporterà soprattutto il supporto psico-oncologico, che mai come ora ce n'è tanto bisogno, perché fra la malattia dell'oncologia e fra il virus ci troviamo veramente a essere in piena crisi. Partita il 3 agosto dall'ospedale San Bortolo, Loretta ha concluso il suo viaggio il 12 settembre in Basilica Palladiana. Il racconto dei 7.000 chilometri raccontato in un libro per raccogliere fondi a favore dell'Associazione per i malati oncologici Amici del Quinto Piano. Trasferire questi messaggi attraverso lo sport è un obiettivo che ci siamo dati fin da subito e Loretta ha un po' rappresentato tutto questo, quindi la volontà anche poi di presentare oggi questo libro e di raccontare questo fantastico percorso. È una bella iniziativa di solidarietà, stiamo lavorando per sostenere questo progetto perché è un progetto, un messaggio importante legato alla sfida delle donne che si ammalano di tumore e che devono affrontare la vita con l'obiettivo di superare queste situazioni. La scrittrice ha vissuto questa esperienza in giro per l'Italia e ha voluto anche farne un libro a testimonianza che si può vincere anche il male e tornare a una vita normale.